Tre reti al rigamonti di Brescia e il pensiero torna indietro di sei anni, poco meno, ad ottobre 2011 quando un peschiare, sempre nel segno di Zeman, disintegrò le rondinelle, allora allenate da Giuseppe Scienza e iniziarono il lungo cammino che l'avrebbe portato in Serie A. Essi allora furono una doppietta di immobile, il sigillo d'insigna e illuminare la serata lombarda stavolta ci pensano Capone e quel Ferdinando del Sole che sembra avere un particolare feeling con la competizione nazionale e con il gol in generale. Il giovane attaccante cresciuto nella cantera bianco-azzurra non è un giocatore qualunque. Il Delfino sembra infatti aver trovato in casa l'uomo gol del presente e del prossimo futuro. Alle spalle dunque la sconfitta nell'amichevole col Pineto che comunque aveva mille attenuanti ma soprattutto protetto meglio il reparto difensivo con coda e perrotta e che concede solamente il momentaneo pareggio di Bisoli. La tenuta dietro dunque sembra essere la chiave di volta di una squadra che davanti non sembra avere problemi a realizzare con le questioni di mercato destinate ad essere al centro dell'agenda ancora per qualche giorno specie con le situazioni che riguardano i giocatori in uscita. Con un Brugman che invece prende le redini della mediana del Delfino e alla mezz'ora pesca Capone bravo a punire Gagno. Subito il pareggio dopo qualche giro di lancette con il rasoterra di Bisoli pescato da una verticalizzazione di Coppolaro e nella ripresa che il Pescara viene fuori complice anche una preparazione che inizia a dare i frutti desiderati, specie alla distanza. Culibali sale in cattedra e del sole fa capire al pubblico del Rigamonti le qualità innegabili che Zeman pare già voler premiare. Due reti di pregevole fattura che si incastonano in un secondo tempo nel quale anche Ganze e Balzania fanno il loro ingresso in campo per Capone e Pettinari. Pedine fondamentali per lo scacchiere del Boemo a due settimane dall'avvio del campionato con la gara interna contro il Foggia di Stroppa. Il Brescia da qui in avanti cambierà e non solo quello visto in Coppa. L'arrivo di Cellino e la conferma di Boscaglia potrebbero essere due pilastri della stagione che sarà nel frattempo per il Pescara solo buone notizie. La Serie B inizia tra poco ma nel frattempo i biancazzurri si regalano il quarto turno di Coppa Italia a fine novembre. Ci sarà di fronte la Sampdoria dell'Abruzzese Giampaolo e basta anche solo il nome dell'avversario per tornare di nuovo indietro con la memoria a quella stagione conclusa proprio a Marassi.